Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburnia ha da poco attivato un progetto di censimento sui rettili grazie ad un accordo di collaborazione con il CNR, Istituto per la Bioeconomia. Spesso percepiti come fonte di paura e repulsione, in realtà i rettili giocano un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento di molti ecosistemi. All'interno della catena alimentare sono sia predatori di insetti, ratti e altri piccoli animali, contribuendo a tenerne sotto controllo le popolazioni per la gioia di molti contadini che prede essendo un'importante fonte di cibo per molti rapaci e possono essere anche usati come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi. La corretta gestione delle aree protette è legata alla conoscenza qualitativa e distributiva delle specie presenti. Qualunque intervento gestionale o di protezione, senza il supporto di un aggiornato censimento e accurate conoscenze, è infatti del tutto inapplicabile. Le conoscenze sui rettili all'interno del parco sono limitate e il progetto nasce per colmare questa lacuna. Chiunque può contribuire fornendo dati è la Citizen Science, la scienza di tutti. Gli appassionati e i sensibili al tema su iNaturalist troveranno il progetto Erpetofauna del Cilento, su cui fare segnalazioni, caricare foto in pochi e semplici passaggi. Non vi preoccupate, dicono i promotori del progetto, se non conoscete la specie, se la foto è ben fatta, saranno gli altri membri della comunità a identificarla. Anche le considerazioni apparentemente banali sono importanti. Il progetto è dedicato ai rettili, ma si estende anche agli anfibi.